Oggi c'è RadioRomalibera.org, la prima emittente di podcast 14 in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org. Gli effetti ci sono stati e come. La nuova legge pro-life denominata del batito cardiaco emanata in Texas, scatenando le ire della galassia pro-choice e del presidente Biden, ha prodotto conseguenze immediate. Una volta entrato ufficialmente in vigore, si è dimessa dall'incarico quasi la metà dei medici della Whole Woman's Health, ovvero della più grande struttura abortiva americana, assieme a Planet Parenthood. Ora sono solo 8 le cliniche di questo tipo rimaste in funzione nello Stato contro le 17 attive prima del 1 settembre. La normativa è detta del batito cardiaco, in quanto vieta l'aborto nel momento in cui, se possibile rilevare, il batito cardiaco fetale, vale a dire in genere entro la sesta settimana di gravidanza, anche in caso di stupro o incesto. Le ore che hanno preceduto la promulgazione della legge hanno segnato però una ecatombe. I medici del Whole Woman's Health di Fort Worth hanno eseguito il maggior numero di aborti possibile. Uno di loro ne ha eseguiti 67 in sole 17 ore, una strage, sapendo che dopo la sua carriera avrebbe potuto risultare compromessa da una simile attività. Un paletto importante con questa normativa è stato certamente fissato, anche se la battaglia è appena iniziata. Il sedicente cattolico Biden ha subito dichiarato apertamente incostituzionale la legge del Texas. La sua amministrazione ha cercato di bloccarla con un ricorso bocciato tuttavia dalla Corte Suprema in virtù di complesse e nuove questioni procedurali. Questo non blocca tuttavia il quartiere generale democratico. Il governatore di New York, Kathy Ockel, altra cattolica a parole, si è subito premurata di informare che nello stato da lei retto, le donne del Texas intenzionate ad abortire troveranno qualunque aiuto di cui avessero bisogno. Compreso un trasporto sicuro, non si sa se addirittura confondi pubblici. Non siete sole, ha detto rivolgendosi alle madri, decise ad uccidere il figlio che tengono in grembo. La statua era la libertà e qui per accogliervi a braccia aperte, ha dichiarato con foca radicale. Ockel, pronta a mettere a punto, assieme al suo Dipartimento della Salute e agli esperti delle sigle abortiste più spinte, una sorta di guida per la fornitura di servizi di aborto nello stato di New York, oppure aborto chimico anche a distanza. I diritti di coloro che cercano servizi abortivi saranno sempre protetti qui, ha proseguito il governatore, aggiungendo di aver inviato una lettera a Facebook lo scorso 13 settembre, affinché censuri oscuri i profili pro-life, rei, a suo dire, di disinformare sull'aborto. Il fatto che i soggetti così spintilano a vehemenza tanto estrema da non risultare più ideale, bensì chiaramente ideologica, si definiscano pubblicamente cattolici, benché in aperto e chiaro contrasto col diritto naturale e con la dottrina cattolica, richiama il famoso passo del Vangelo di Matteo, laddove si parla dei sepulcri imbiancati. Segni di speranza stanno germinando comunque anche altrove, non solo in Texas. Altri stati americani stanno valutando di adottare provvedimenti analoghi alla legge del battito cardiaco, come Arkansas, South Dakota e Florida. Non solo, il presidente di El Salvador, Naib Bukele, ha categoricamente escluso che il progetto di riforma della Costituzione, studiato dall'Assemblea Legislativa, possa legalizzare aborto, nozze LGBT e eutanasia. Non proporrò nessuna di queste cose, indipendentemente dalla pressione internazionale cui io possa essere sottoposto, ha dichiarato su Facebook, non senza coraggio. In El Salvador attualmente la vita è tutelata dall'istante del concepimento sino alla morte naturale, mentre il matrimonio riconosciuto è solo ed esclusivamente quello tra un uomo e una donna. Non a caso il presidente Bukele ha concluso il proprio messaggio ponendo il suo paese nelle mani di Dio e assicurando di voler mantenere sempre i nostri principi e la nostra fede in Dio come forza che guida tutte le nostre azioni. El Salvador potrà progredire solo se lui lo permetterà, ha precisato. Intanto c'è ancora una chiesa che combatte. In Messico l'Arcidiocesi di Xalapa ha proclamato un giorno di lutto lo scorso 20 settembre esattamente due mesi dopo la depenalizzazione dell'aborto nello stato di Veracruz, di cui Xalapa è la capitale, a causa delle due sentenze varate dalla Corte Suprema di Giustizia così dannose per il tessuto sociale ma anche e soprattutto per il clima morale e spirituale. I rintocchi tristi delle campane a mezzogiorno in punto hanno scandito in tutte le chiese, in tutte le cappelle dell'Arcidiocesi, il monito e il richiamo alla preghiera per tutti i bambini mai nati per i quali sono state celebrate le sante messe concluse e si con orazioni appositamente scelte. D'ora in poi, il giorno 20 di ogni mese, le celebrazioni eucaristiche verranno dedicate ai nascituri, donne e meraviglie alla vita, con una benedizione per le donne in dolce attesa e per i loro figli. La chiamata raccolta è per il prossimo 3 ottobre, quando nella capitale messicana si terrà la Marcia Nazionale per la Vita organizzata dalla Conferenza Episcopale. Oggi c'è RadioRomalibera.org, la prima emittente di podcast 14 in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org Grazie a tutti.